Ragazzi iniziamo, noi siamo in 6, i due random non li calcoliamo, va bene così, possiamo cominciare anche dalla prossima da Amada Allora, io e Carpey giochiamo soltanto noi due Perché poi quanti sit? Noi facciamo due squadre da 3 Siamo in due Due squadre da 3, ragazzi E devi... Soto ma devi andare in E-ball Ok E poi bloccate la squadra Io a questo lo espello e blocco la squadra Aspetta, ti invito, Sodono Ah, sei già dentro, bene Allora iniziamo subito Squadra bloccata, bloccatevi la squadra E cominciamo Tutti i medici, vabbè, l'ho fatto così Oh, il carro Guarda, ti hai rito Grazie Oh, amigliato Ma ragazzi, già siamo in 6, non prendete i carri, mannaccia la miseria Io mi butto subito su B Questa che Questa è già veloce come cara Poi se si butta su B Fa un buon Guardino, chiama Andiamo Ci siamo Conquestiamo l'obiettivo Ok, andate realmente su Charlie Sì Alcuni di voi andate su Charlie Io vado subì con la mia squadrina Sperando che quelli dietro che sui random si sono presi half Attenti al carro qua davanti Prendete la larga Ucciso un carro Non me ne fotte che siamo in 6, mannaccia la puttana, li devo chiudere lo spawn da subito Chi è il carro? Eh, non lo so Gli RBA Ce l'abbiamo tutti davanti, guardate, stanno andando verso B Sei riuscito ad ammazzarli, bene Ma sono degli RBA, mi sa Ma dove è scappato via Che cazzo scappa Uno ho preso Gli scappi di RBA Gli scappi Sta andando alla stazione di rifornimenti Qualcuno vada su Alpha Ce la fai distruggerlo? Sì, ce l'ho fatto Grande Io so davanti Io ho dovuto riparmi Andate a difendere Alpha, raga La squadra di Nino tutta su Alpha Eh, sì, un attimino, eh La squadra mia tutta su Charlie Va bene Quando vediamo che provano a prendere bravo Andiamo tutti quanti su bravo E poi ci muoviamo Sempre squadra mia, sempre Charlie E la squadra di Nino, sempre Alpha Ok Andate subito su Alpha Non voglio Ma hanno capito che stiamo giocando adesso, vero? Sì Il tetto ma sotto, sotto, sotto Stanno su Alpha, tutti Sì, sì, dai, dai, ve l'hai preso, Giulia Però c'è ancora gente su Charlie Ok, Ita l'ho fatto fuori C'è uno qui, eh Non so dov'è Quest'altro è fazzolata Raga difendiamo Charlie a tutti i costi E voi riprendetevi Alpha Ad ogni costo Eh, non ce la facciamo Sto spegnendo la tv Ok Provate ad entrare nel carro e uscire al carro Subito No raga, a piedi no col carro Mi raccomando C'è solo Nino nel carro Proprio perché L'ha preso Oh, ma dove? Non, non ce l'ho fatta C'è isn't in via Ma, ma, ma Ma, ma ci senti là, là Dove? Nella torre, dietro Ce ne hai spawnato un secondo Che è andato a destra della torre Ce n'è un terzo, ce n'è un terzo No, uno mi ha fatto Sono affa detto Eh, l'ho ammazzato ma ne è spawnato un altro Susate un attimo su Alpha potete spawnare su di me ci ho provato ma ho sbagliato un colpo dopo l'altro su bravo ragazzi un bravo assolutamente avevamo quasi giusi ma appena mettiamo in sicurezza bravo la mia squadra su charlie e il resto non lo so guardate come sta campanato questo e no non ho fatto in tempo comunque si è dietro bravi su bravo prendetela i miei social attenti che come sicuramente ci troviamo quindi mettiamoci sotto tutto il muro costruite barricate su charlie davanti a me preso sopra anche ah no sopra è no ok nino tu mantieni spoletta tra bravo e alfa avete un cavo su no non fa rinca eh no perchè io sto passando lì c'è gente anche sotto state attenti ma c'è troia manca un colpo datemi un colpo di missile quel cazzo di caro prima che si auto auto ripara forza raga forza su charlie forza arrivo basto su bravo da cazzo va si ma c'è gente su charlie si si c'è eh si devono venire ci devono venire a prendere qua lo conoscisi ci devono prendere qua se vogliono the black eagle eh the black eagle è forte quello dell'altra volta mi raccomando l'altra squadra sempre spoletta alfa e bravo non dobbiamo perdere mai due punti qualcuno ha abbandonato un carro mi sa ne va ciao non fa niente non fa niente da bravo no non fate due non è partita la carica stanno perdendo si si bravo la stiamo perdendo c'è pensato io si ma saranno sopra i miei di nuovo pressing su charlie e nino ah bravo eh siamo andati su bravo eh si si no mantieni la propria cioè non vi muovete mai da qua si ma stai tranquillo intanto che mi metto le difese qui sento che c'era gente di la eh ho visto qualcuno li apre a quel povero che ha nella porta tento ma ce n'è uno che è su di te ma ormai siete su su charlie non ho capito no ma cosa mi ha chiesto colpa mia no non ce l'ho fatto però è uno dietro ma vogliate preso eh ce l'avevo dietro Logan dietro alle spalle c'erano due sono tre saranno tutti su C un medico eh si nino su alfa eh non so no no lo posso mo dove ecco l'ora dove era qui più o meno però non lo vedo più si è fatto il giro ucciso attendo che ce ne resta uno che sta venendo su alfa prendete alfa c'è un alto ucciso avete preso uno di alfa ok si si armatevi ah ok no no siete voi sta bene pressing su charlie solo noi tre c'è ancora il loro carro su bravo caro armato su e allora tutti dell'altra squadra se siete assalti provate a buttarlo giù e allora Andrea tu che sei assalto che andiamo assalto andiamolo perlomeno a rompere il cazzo bravo Andrea bravo ce n'è un altro dentro mi sa ho sentito spararlo non vorrei sbagliarlo il carro è ancora lì si si sono costruiti il filo spinato nella loro zona quindi cioè si hanno fatto una cagata si sono fatto una cagata da su no in Italia gli ho costruito io il filo spinato per non fallo in Italia ma chi era quello lì a fiatta da me no portavacca porca vacca si è spostato all'ultimo eh ma si è spostato all'ultimo se fosse batteci duro l'avrei preso in pieno portavacca attento era in mezzo al culo l'ho capitato eh se me li vengo in carro quando stanno qua vado subito con il carro mannaggia perché un rianima porca puttana ecco qua a posto si c'è ancora il carro eh loro stanno giocando tenendosi molti su Charlie e quindi giochiamo così dove è il carro? dove è il carro? ma il carro l'ho fatto alfa raga alfa Andrea andiamo su alfa è un carro andato è un carro andato è un carro andato è un carro andato ah a posto raga noi non prendiamo i carri mi raccomando dobbiamo giocare in sei e senza carri troppo tardi grazie una merda sta andando una merda proprio attenzione che c'è la gente ce ne sta uno vabbè alzandolo qua nemici falli venire dove? su alfa bravo dove? eh su alfa su alfa l'ho ucciso l'ho ucciso ok torniamo su bravo siamo troppi su la bandiera se vi siano nel fornimento dittemelo che io ho il coso del carro e che posso dare tutti su bravo raga i piccolini arriva il carro attenti non so dove si trova vaffanculo porco dio no dio mi è scappato è il medico c'è uno qui sopra aspetta ci vado io ci vado io benissimo dopo questa toby mi ha preso veleno easy io esco andato dal carro per l'invalio vai raga raga bravi mi piace su Charlie che era libera comunque Andre come se no anzi rimanetela rimanetela fate bene no ma perché ce n'è uno dietro uno dietro no non ci credo si è bugato il carro io ragazzi sono bene sono dalla bomba 20-25 minuti arriva a casa mi sa che riesco a farmi un paio se c'è posto ah beh l'STG io stavo usando l'SL ciao senti che hai da faccia qua beh chiudiamoli su C proviamo chiudiamo dai sanno che ci siamo si lo so ma gli butto un paio di fumogeni pushate pronti vai con la pushata no ce n'è un altro ce n'è un altro ce n'è un altro cazzo l'ho sentito dopo come c'è uno degli over 40 qua eh perché loro avevano uno in meno non con loro non ho mai giocato contro gli over 40 dovrebbe essere tipo il clan di pinguino di pinguino ah capito è forte allora bravi raga dimostrate che pure in sei possiamo farcela bravissima sono in due 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 carlo ok mi preparo appena esco a girare no cazzo dietro 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 lo sta tirando su è quello dove l'hai fatto l'ha tirato su l'ha tirato su caro pesante non so se c'è c'è altra gente i carri pesanti non sono messi vabbè un fani arrivo bravuri mi ha fatto fuori ma era vita per casa rba non potevo utilizzarlo solo i leggeri possono utilizzare non cari pesanti diteglielo speriamo che escono questi sti due stronzi è un bellissimo carista è una siamo in sei raga contro otto non ve l'ho dimenticato le abbiamo persi dicendo punti bravi ragazzi allora su fielo la stessa cosa una squadra fa spoletta alfe bravo e un'altra su charlie sempre mo le dobbiamo invertirci un attimo ci vogliamo invertire raga facciamo noi alfe bravo e voi charlie boh il capo squadra non mi rispondo e cosa? allora prima abbiamo fatto voi su alfa e bravo e noi su charlie mo facciamo il contrario voi su charlie noi manteniamo alfe bravo così ci alterniamo e non è stressante va bene si 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 va bene ad Andrea con la nuova skin che deve fare lo sborone si oppure cago il cazzo tranquillo raga ricordatevi siamo sempre 3 e 3 a spoletta come prima no voi rimanete fate i pusciatori malvaggi su charlie sempre cercate di romperli il cazzo e di stressarli e la squadra mia alfa è bravo quindi mo rimangono noi andiamo nel tempo su bravo però andrea tanto rimangono i random qua su alfa sicuro preghiamoci andiamo su alfa poi andiamo su charlie no no poi direttamente su charlie perchè tu devi fai il giro largo ah ok intanto passiamo su alfa e vediamo un attimo uno sprint veloce qui guarda dobbiamo sempre passare dai salta ma io se ecco attenzione che proveranno a passare dall'altra centrale attenti che ci sanno un'altra squadra proveranno a passare da qua io vado dietro sono un medico quindi andate voi un attimo ah ok due ok i medici stanno dietro davanti ecco sulla sinistra anzi ce n'è uno davanti a me coprimi coprimi spalla 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 arrivano bravo bravo preso cazzo andiamo su charlie si son messi davanti sì no cazzo c'è un muro qua davanti no vabbè da dietro mi ha cortellato tornate su bravo tornate ma non avanzate non avanzate non avanzate non avanzate no cazzo dai 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 stanno indietro ok ci riproviamo ora stanno arrivando loro pusha verso alfa vedete dove sono dai che li sto sopprimendo dovreste vederli sulla minimap ok a posto mi raccomando quindi sanno qui davanti eh? si eccolo la basta sono venuti ucciso alfa di qua c'è un mico no sta qua uno sta uno sul tetto e uno dai qua si c'è uno ok ho ucciso Ita uno mi sa che sta dietro sta eh va non ho fatto in tempo a cambiare arma eccolo sta qua sta di qua stanno andando su bravo stanno andando su bravo ok andiamo subito sociale veloci è partita bravi avanti guarda dietro eh ciao aspetta non mi posso alzare no no c'è gente c'è gente è troppo pieno Charlie stanno andando già su bravo aspetta beh morite morite prima e non fatevi dare lo spawn perché sennò mi becca a posto Charlie presa sponate su Charlie si ma adesso il problema è che è bravo allora mo tutti quanti tranne una squadra che rimane qua sponchillare ok? tutti quanti su bravo quindi? ehm ehm Nino rimanete voi qua e noi andiamo su bravo va bene ecco voi stanno andando eh chi c'ha come supporte lo faccia saltè quel fienile lì ragazzi stanno passando da qua ottimo e ne erano almeno un paio che stavano andando in fondo a destra eh infatti è la davanti over 40 con lo stand camperato bravissimo l'over 40 erano almeno due ce n'era solo uno si no per forza un altro dove è andato l'acqua mi raccomando ragazzi sponchillateli su C non fategli uscire mo ci mi riprendo bravo colpitemi attendi la davanti bravo freddo e va e va maledizione eh non sono abituato con gli uis non ci sto tenendo granché è qui dalle quest medica va col mob state attenti non lo vedi raga non lo vedi ah la ok stiamo tenendo perché uno è morto no ma perchè ehm ehm mi raccino sta lì sta lì stanno pushando stanno pushando perchè c'ho l'aslo dark batman da nuve mannaggia miseria mannaggia basta basta da fino eh c'è c'è no stanno qui stanno qui ce la fai? vi la prendete raga? si ma ce n'è ancora uno ok allora io vengo spawno sul chart ce n'è più di uno ce n'è più di uno minchia sono incazzati neri eh ma che va? cazzo e va da due lati diversi uuuu ce l'ho qua ecco dove sta stanno dietro a sta barrile stanno qua non posso fare niente col cecchino voglia te io sto cercando di fare fuoco di soppressione come se non ci fosse un domani oh boh sono solo bravo sono pieni solo su bravo tu appena vedi le testoline inizia spare si è andato di sopra non so se è una buona idea seguirlo tanto vedo su b che hanno difficoltà ecco li ha di nuovo dai comunque ci copre un attimo ok ucciso resisti colpimi spara ho bisogno che spari vai bravo libera bravo libera ok riprendetela e poi sei venito da aiutarci su ci no sono sotto sono sotto ragazzi ce n'è qualcuno da queste parti qua giù che mia di merda ha avuto che mia di merda che ha avuto ma che ce l'ha fatta c'è 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 allora fa 1 fa 1 fa 1 che ha avuto qui di si l'ho visto n***a che mia di merda ha avuto non ce l'ha fatta colpirmi fa qua eccolo oh sotto eh non ho fatto un tempo solo la dinamite no vabbè ragazzi sono in 2 sono in 2 su bravo sono chiusi però c'è player resta resta nascosto prova sono tre sono tre aspetta spawn spawn oh ne carica ti la vita ne carica ti la vita raga cazzo su bravo non riuscite a no no noi stiamo difendendo no ce n'è qualcuno su bravo no no sto dicendo a quelli che sono su bravo eh ci sto provando ci stiamo provando ancora niente no il fuoco boia no no lascia stare c'è il fuoco eh non vedete quando c'è il fuoco aspettate quando c'è il fuoco aspettate quando c'è il fuoco aspetta no ragazzi ma l'avete lasciato da solo per bravo porca vacca l'ho sbagliato io sono spawnato su alfa arrivo subito eh attimino resistete ma porco dio 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 che sono messo male che si asso eh sono messo male porca vacca eh ciao vanno su alfa ragazzi vanno su alfa vanno su alfa andate su alfa eh sono appena riusciti perché non c'è rimasto non c'è rimasto nessuno su alfa ragazzi adesso la prendono sono spawnato ora io su alfa me la stanno prendendo oh ma il mio la mia casa di ritorno che cazzo è andata oh no c'era la lenda porco eh tranquilli eh sì ragazzi ma avete lasciato da solo arrivo e tutti quelli che stanno su charlie andate indietro raga che è inutile che stiamo su charlie oh casino adesso andiamoci su alfa andiamoci su alfa andiamoci su alfa usate la cazza di fornimento che c'è lì giù che dà vita e funzioni ok io con la mia squadra andiamo su beta ok facciamo charlie allora ok alfa la sto riprendendo eh alfa la sto riprendendo ma non garantisco arrivo pure io su alfa andrei mi sto facendo il giro corto e arrivo ora si stanno riprendendo charlie ma non non fa niente lascia della sta charlie beta com'è messa vaffanculo vaffanculo c'è ancora uno eh non so dov'è boh alfa ne ha presa c'è qua qui ci sono insieme eh andiamoci a fare il giro largo qua vediamo se stanno venendo da qui si pusciamo pusciamo adesso ce li incontriamo davanti eh quindi è nata tattica oh bravo abbiamo perso solo un secondo perché da bravo sono sponato e sono su alfa ma non era situazione pericolosa ok guardate un aiuto grazie su su sto passando da su visto attenti eh edi lì edi lì ok abbiamo vinto ok abbiamo vinto dove vittoria di seguito bravo bravo se si affancazzo spiga otto sette dio santi io ho dieci due undici due eh devo ora devo fare mille e cinque